Hare Krishna a tutti, benvenuti, benvenute. Sono felice di essere qua. Questa sera parleremo di Shila Prabhupada. Shila Prabhupada lo vedete sia nell'altare, qua in basso, nella foto qua in basso, dove ci sono più maestri, il primo a sinistra, ma poi l'immagine, quella più grande, invece è la Murti, viene definita Murti, invece in fondo alla stanza, questa stanza. E avete notato, la prima volta avete notato che chi entra prima va a fare gli omaggi, cioè si inchina davanti a Shila Prabhupada e poi viene da questa parte, viene davanti all'altare a fare di nuovo il suo inchino, i suoi omaggi, in questo caso proprio alla divinità presente nell'altare. Shila Prabhupada è una figura estremamente importante sia nel movimento Hare Krishna, ma nel mondo intero, ed è nel movimento Hare Krishna perché è lui che ha fondato quello che noi definiamo movimento Hare Krishna, che si chiama movimento Iskon, è lui proprio che l'ha fondato, lui ha portato questa conoscenza dall'Occidente a un'età anche avanzata. Quindi abbiamo pensato che fosse interessante, bello, insomma, parlare proprio di lui. Inseriamo, Shila Prabhupada, la sua figura nella tradizione avaeshinava. Lui appartiene a quella che viene definita Brahma, Madva, Godia, Sampradaya. È una catena disciplica, maestro, discepolo, che parte proprio dall'antichità, dal primo essere che è Brahma. Viene definita Brahma Madva Godia perché un suo esponente principale, proprio un suo esponente estremamente importante, è Madvacharya, un grande maestro che è apparso nel Medioevo, in India, un teologo di grande spessore, e viene chiamata proprio così. E Shila Prabhupada appartiene a questa catena disciplica, che è specifica che non solo crede in un Dio personale, ma crede in un Dio personale che ha preso la forza, che è Krishna, che è apparso cinquemila anni fa in questo mondo, e non solo questo, non solo questo. Non solo crede in un Dio personale, non solo crede che Krishna sia questo Dio, che ovviamente prende moltissime manifestazioni, ha moltissimi modi di apparire davanti ai suoi credenti, moltissime, proprio vengono definite come innumerevoli, non solo molte, ma proprio innumerevoli. Ma anche il messaggio principale è proprio quello di risvegliare questo amore che abbiamo assopito per Dio. Quindi non è solo un messaggio, come dire, conoscitivo, ma è anche un messaggio di risveglio. Infatti lui si definiva proprio un messaggero. Leggo dall'introduzione, dal capitolo primo della Città Nacerita Amrita, è la storia del Città Nacerita Amrita, è la storia di Città Nema Aprobo, una tradiscesa del Signore, apparsa nel nostro rinascimento in India, e questa è la sua storia. Sono molti volumi, lui ha tradotto e commentato questo testo. E leggo, poiché apparteniamo a questa catena di maestri spirituali che discende da Sri Città Nema Aprobo, questa edizione della Città Nacerita Amrita non conterrà nulla che sia stato inventato dal nostro minuscolo cervello, ma solo gli avanzi del cibo gustato in origine dal Signore stesso. Questa edizione della Città Nacerita Amrita è presentata all'esame di studiori sinceri che siano davvero la ricerca della verità assoluta. Essa non è l'erudizione arrogante di una speculazione mentale, ma lo sforzo sincero di servire l'ordine di un'autorità superiore. Quindi una sua prima definizione di se stesso è proprio quella di semplice messaggero, di un messaggio molto particolare. Il messaggio può essere racchiuso in poche parole. Siamo nel mondo, l'energia materiale viene definita la paracriti, è quella che ci lega al mondo e questo essere legati al mondo ci condanna a continuare a ritornare in questo mondo e questo viene definito samsara, ma c'è la possibilità di uscire da questo samsara e questa viene definita mukti, liberazione, per poter uscire però ci vuole che qualcuno di realizzato ci dia questo messaggio e ci faccia vedere la strada, ma non solo, nella tradizione Vaishnava offrono un passo ulteriore alla liberazione, cioè appunto l'amore per Dio. Shira Prabhupada è un Vaishnava unico nel suo genere, ci sono stati molti acciari, ma lui ha avuto dei raggiungimenti veramente eccezionali e molti avevano cercato di portare questo bel messaggio in Occidente, ma insomma risultati concreti realmente li ha avuti proprio lui, da lui in poi, diciamo, ed è anche la realizzazione di una serie di predizioni. Come ricordavo prima, Cittania Maprobo, Cittania Maprobo stesso diceva il canto del santo nome sarà cantato in ogni città e villaggio, che in quel momento sembrava anche una predizione abbastanza non comprensibile, come quando arrivano, quando vengono le manifestazioni divine, parlano anche in modi, vedono delle cose che noi non subito riusciamo a comprendere, penso a Gesù stesso. Il maestro, cioè un maestro sempre della Brahma Madhva Godia Sampadaya, Bhaktivinola Thakur, vissuto nel 1800, anche lui aveva predetto che qualcuno avrebbe portato questo, il santo nome, la conoscenza anche in occidente e poi anche il maestro di Shila Prabhupada, proprio la prima volta che l'ha visto, proprio gli aveva detto di andare in occidente e dopo aveva, in altri scambi, insomma, aveva dato questa visione di poter trasportare un messaggio estremamente complesso, estremamente complesso, anche una cultura a cui non era abituata a questo tipo di visione. Invece lui ce l'ha fatta. Il suo messaggio nello stesso tempo è anche universale, nel senso non ha mai voluto creare una cultura ibrida, indianeggiante, qualcosa, cioè non ha mai voluto creare una verosimiglianza di qualcosa che c'è da qualche altra parte, ma ha sempre chiesto che il messaggio universale fosse declinato secondo tempo, luogo e circostanza, secondo proprio la cultura. Anche lui ha sfidato proprio, come dire, con il suo esempio qualsiasi tipo di designazione stretta solo nell'ambito culturale oppure di quello che la società avrebbe voluto vedere da una persona, perché era estremamente brillante ed estremamente flessibile. E allora, data questa piccola premessa, l'obiettivo di questo breve incontro è proprio quello di cercare di capire come posso conoscere meglio Prabhupada, come posso capire meglio come servirlo, come posso capire anche la sua profondità sempre di più. E un modo è così abbiamo delineato un po' qualche modo, qualche modo che magari uno parte da qualche consiglio, qualche indicazione e uno partirà da un'altra. Uno è prima di tutto studiare i suoi insegnamenti. Prabhupada è stato un maestro in poco tempo ma molto, molto, molto prolifico e ha commentato molti testi la Bhagavad Gita, Cetana Cetamri, lo Shrema Bhagavata ma quasi completamente, la Shri Chopanishad, l'Upa de Shamrita, insomma tanti testi e in più ha fatto anche dei piccoli libri proprio riassuntivi molto interessanti, cioè non bignami, proprio testi molto, come dire, molto profondi ma proprio riassuntivi. Quindi è stato veramente molto prolifico e in più così ho delineato tre aspetti così dei suoi così congnuno insomma cerca di collegarsi a suo modo. Uno è riconoscere la sua impronta personale nel suo insegnamento. Quindi la sua impronta personale perché quando è venuto in occidente ha fatto come dire ha declinato la conoscenza vedica in in tanti modi diversi proprio mantenendo il cuore ha introdotto anche nuove cose non so ha deciso quanto fossero il numero dei giri per ricevere l'iniziazione che erano 16 e quando è apparito in India invece erano di più ha introdotto ad esempio la pratica della tagliatra l'ha introdotta e non in città si fa la tagliatra proprio adesso da poco questi giorni c'è stata la tagliatra a New York mentre la tagliatra è un è un uscita delle divinità di Jagannath Puri quindi in un luogo preciso dell'India in un certo momento dell'anno mentre lui lo ha introdotto in in questo modo poi ha aperto anche l'idea di tempio chi doveva ospitare quante persone che potevano specialmente all'inizio insomma potevano partecipare uomini donne separati in un certo modo però era proprio un luogo di accoglienza il ruolo delle donne anche nella tradizione Vaishnava è stato proprio un innovatore della tradizione quindi ha dato veramente molto spazio cioè il giusto spazio diciamo quindi ha dato molto spazio anche il fatto che facesse cerimoni di matrimoni la festa della domenica a cui oggi state partecipando è una sua introduzione non c'era prima la distribuzione massiva di prasada cioè di cibo alle persone è proprio una sua introduzione e anche dal punto di vista culturale la sua impronta è una sua posizione ferma rispetto a considerare il mondo scientifico come fonte di verità assoluta e quindi anche insomma la figura dello scienziato che insomma veniva un po' diciamo relativizzata ecco da lui ma anche il Guru Pujaf giornaliero che offriamo a Shila Prabhupada ogni giorno non so se sapete magari alcuni di voi non sanno è proprio un'introduzione di Shila Prabhupada anche il Vyasa San Alto è un'introduzione di Shila Prabhupada perché stava entrando in una cultura dove dove non c'era il rapporto tra maestro e discepolo quindi ha dovuto proprio come dire renderlo molto chiaro prima invece c'era solo di Assapugia cioè il giorno del compleanno del maestro spirituale quello era il momento del maestro spirituale invece lui ha introdotto proprio questa diciamo presa di coscienza giornaliera della sua della sua insomma dell'importanza di un maestro spirituale e poi quest'unione che è proprio una sua impronta personale questa unione tra saggezza orientale e pragmatismo occidentale che proprio lui era una sua una sua visione cioè che le due cose potevano unirsi invece che la saggezza orientale fosse un po' diciamo macchiata inquinata dal progresso occidentale oppure che il progresso occidentale diventasse così come dire senza senza una visione spirituale proprio era il suo ed è stato proprio il cuore della sua predica questo tentativo di unire due mondi che in un certo senso sembravano anche inconciliabili poi un altro aspetto dopo ci sono tante riflessioni su questi punti perché è stato veramente un innovatore un altro aspetto invece sono argomenti complessi la scienza vedica la conoscenza vedica è molto complessa la sua capacità era di rendere semplici dei pensieri molto complessi ma ci sono delle delle come dire dei concetti che non puoi semplificare se no li rendi fin troppo banali ma quindi ci ha fatto vedere in tanti in tanti esempi nei suoi testi ci fa vedere anche quelle aree di grigio quelle aree di grigio tra nella declinazione della verità assoluta dei principi universali secondo tempo luogo circostanza e in più anche troviamo nei suoi che è anche interessante da vedere troviamo nei suoi scritti anche delle affermazioni che mantengono questo tipo di complessità non so faccio un esempio la vita di famiglia lega l'anima condizionata al mondo oppure è un luogo è uno spazio dove si può cercare la liberazione e l'amore di Dio troviamo affermazioni che portano che parlano in un certo modo e troviamo affermazioni che parlano invece in un altro modo oppure non so il desiderio di ritornare a Dio è un desiderio giusto sano o è un desiderio egoistico nel senso che noi dovremmo prima di tutto pensare alle anime avere compassione verso le anime invece non come dire approfondire troppo questo desiderio nostro di ritornare a Dio e vediamo nei suoi scritti che ci sono passaggi molto forti in un senso e passaggi estremamente forti anche in un altro perché lui ci vuole far vedere che la coscienza di Krishna non è solo logica la coscienza di Krishna parla di un mondo che è spirituale dove gli opposti stanno anche in piedi dove ci sono delle altre inoltre la coscienza di Krishna non è un come dire un decalogo di precetti così che vengono calati dall'alto ma a seconda di tempo luogo e circostanza io posso magari approfondire o dare importanza a un aspetto del progresso spirituale rispetto ad altri oppure anche il ruolo della donna è un argomento dibattuto molto molto interessante nei libri di Shilapraupa di quanto spazio abbia dato ma nonostante tenendo dei principi diciamo definendo anche degli ambiti di movimento veramente molto interessante che ovviamente sono degli spunti che lascio proprio a voi in questo senso il mio intervento proprio semplicemente per non per approfondire l'argomento specifico ma per dare degli spunti di riflessione e poi la sua traduzione dei commenti Prabhupada si svegliava molto presto al mattino quasi ogni mattina nel senso per fare questo che vi sto dicendo che è proprio per tradurre i testi sacri per dare il suo apporto nella tradizione Vaishnava diciamo che tutti i grandi maestri l'hanno fatto ma lui in particolar modo cioè tutti i grandi maestri per essere proprio hanno commentato tipo la Bhagavad Gita hanno commentato qualche testo ma lui proprio in particolar modo proprio per cercare di rendere in qualche modo comestibile anche a noi a un certo tipo di mentalità a un certo tipo di cultura commestibile dei principi dei principi tra l'altro antichissimi e i suoi commenti lui diceva i miei commenti sono le mie estasi sono le mie estasi devozionali proprio dice non sono io che commentavo ma è Krishna proprio che mi parla quindi ecco leggere i suoi commenti è un modo molto personale per entrare in comunione con Shila Prabhupada non solo leggere approfondire i suoi commenti dobbiamo tenere conto che è come non so sentivo un maestro che diceva i suoi commenti sono come le composizioni di Beethoven di Mozart di Bach ovviamente ha un orecchio disattento non sensibile i vari componimenti di questi sembrano quasi tutti uguali insomma non sai che si riesce veramente a capirli è musica classica è chiuso invece ha un orecchio attento invece riesce a capire le sfumature le sottolineature gli accenti cioè a vivere quell'atmosfera che il compositore voleva darci voleva creare nel nostro cuore nella nostra mente nella nostra psiche e lo stesso Shila Prabhupada ha una lettura in effetti abbastanza superficiale sembrano quasi i commenti siano abbastanza simili tra di loro ma a una lettura approfondita invece si si vedono sono chiari lampanti le sfumature anche perché ad esempio faccio l'esempio del Bhagavata è stato scritto in tanti anni e quindi si vede proprio anche proprio il momento storico in cui sono stati composti il momento storico il tipo di nuance che dava ad ogni alla riflessione non so penso a certi passaggi della città nel cerito di Tamrita che sono stati composti nel momento in cui si stava costruendo il tempio di Jubich in India e proprio ci sono nei commenti vediamo proprio la sua esperienza personale il suo coinvolgimento il suo cercare di declinare gli insegnamenti del testo in una sfida pratica ha avuto parecchi problemi per fare quel tempio nell'acquisizione della terra e poi anche oltre quindi proprio per capire come lui rispondeva come lui faceva propri certi principi filosofici un altro modo per avvicinarsi a sua scilla propria è leggere le sue lettere le sue lettere sono in qualche modo meno autorevoli dei testi scritti perché sono delle situazioni specifiche però sono rilevanti proprio in quanto appartenenti a situazioni molto particolari perché nel senso le lettere che lui dava le ha scritte molte di lettere anche a politici ma la maggior parte delle lettere a cui facciamo riferimento sono le lettere che scriveva i suoi discepoli molto molto interessanti molto vediamo una uscilla Prabhupada molto personale vediamo anche come il suo rapporto con lo scritto con la lettera è cambiato nel tempo nel senso che i primi anni che aveva anche pochi discepoli era come proprio un padre che dava anche dei consigli su la cure mediche da prendere devi fare questo prendere questo decotto riposati eccetera e mentre negli anni 70 dove il movimento invece è cresciuto il taglio delle lettere è più di aspetto anche menageriale insomma perché la complessità è diventato un movimento mondiale ma possiamo vedere anche non solo questo il fatto di leggere insomma leggere dico meno autorevoli da un certo punto di vista nel senso che bisogna conoscere molto bene il contesto in cui è stata scritta la lettera altrimenti si rischia veramente di prendere fischi per fiaschi o di pensare che lui avesse avuto delle posizioni che magari non aveva infatti proprio lui nel 69 all'inizio quando lui scriveva le lettere e così vi dico quando scriveva le lettere a uno non so se sfarupa da scorsuami per come dire come routine come come così procedura loro facevano una specie di fotocopia che non è una fotocopia ma le davano a tutti i centri che c'erano per farle leggere come dire è preoccupato ha parlato quindi lo facciamo leggere a tutti lui stesso nel 69 ha interrotto questa pratica perché aveva visto che messaggi personali venivano presi come messaggi troppo generici oppure si perdeva proprio il contesto però noi abbiamo la possibilità di capire anche il contesto attraverso ad esempio lo studio della sua vita attraverso la Shila Prabhupada di Lamarita anche perché nelle lettere esce ancora di più la sua personalità il suo fuoco da predicatore che magari rimane anche in qualche modo più controllato se possiamo dire nei suoi commenti che sono testi invece più andavano all'università insomma sono testi che hanno anche uno spessore teologico mentre nel rapporto personale c'era tutta un'altra una specie di libertà insomma più personale un altro un altro aspetto che volevo portare così a voi è ascoltare le sue lezioni e certo le sue lezioni sono allora lui stesso ha incominciato a cioè dava molta importanza al fatto di registrare quello che lui diceva è una cosa che i discepoli hanno preso quasi subito però con i cambi di assistente personale con situazione con anche diciamo anche la loro inesperienza perché si trovano molto giovani in situazioni lui aveva insomma era molto veloce insomma nei suoi programmi magari qualcosa è stato perso oppure le registrazioni non sono tutte a livelli così acustici eccellenti ma nonostante questo ascoltare le lezioni è veramente molto molto importante molto ispirante noi sappiamo che la conoscenza vedica il primo elemento del passaggio della conoscenza vedica è Shravanam l'ascolto ed è proprio c'è 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 proprio anche una come dire una ragione cosmologica che è l'ascolto non è un senso a caso è proprio il primo il primo senso il primo elemento è l'etere il primo senso è l'ascolto che noi abbiamo proprio quando la coscienza prende spazio nel mondo e quindi è proprio l'elemento principale per poter ricevere la conoscenza è vero che l'ascolto è anche dato dalla lettura noi percepiamo la lettura come una sorta di ascolto però l'ascolto vero e proprio è comunque veramente molto molto forte e vedere Shira Prabhupada uno vi ho messo delle cose uno appunto ascoltare lui è molto molto purificante è anche molto istruttivo perché anche solo conoscere anche solo capire percepire di come lui strutturasse i suoi interventi in un modo molto preciso molto accurato come in modo molto preciso e sapiente in cui strutturava i suoi commenti proprio una sua tecnica quindi anche i suoi interventi erano molto puliti molto brevi 45 minuti cosa che faccio sempre fatica a seguire a rispettare pochi minuti all'inizio alla fine con piccole divagazioni e poi tornare al punto veramente molto molto esperto in questo e un altro un altro vantaggio è che l'ascolto possiamo farlo anche mentre svolgiamo delle altre attività mentre facciamo una passeggiata magari non ci sono non possiamo leggere io cerco di leggere anche mentre cammino però in effetti faccio fatica sono anche un po' strano ma invece con una cuffia insomma si può si può e si può ascoltare e poi è un insegnamento molto molto diretto e a volte personale nel senso che quando ci connettiamo come quando ci connettiamo un testo sacro ci sono quelle situazioni magiche in cui sentiamo che sta parlando proprio a noi in quel momento specifico ci sono alcuni modi di aprire Bhagavatam così un po' proprio tipo prashna cioè di guardare e vedere il testo quello che mi sta dicendo ovviamente è uno dei modi ma io consiglio di studiare in modo sistematico i testi di Prabhupada non proprio viverli così però l'ascolto tante volte arriva proprio nei momenti opportuni a noi perché ricordiamoci che Prabhupada aveva proprio una potenza cioè il fatto che abbia raggiunto dei risultati unici nella storia della tradizione Vaishnava non è casuale quindi ascoltare direttamente della sua voce è appunto può essere può essere utile diciamo un altro aspetto è riconoscere riconoscere Prabhupada come un devoto estremamente caro a Krishna dicevamo prima i suoi commenti sono le sue estasi e possiamo dire in che modo è caro Krishna ho messo là tre termini ma Bhagavata Jagad Guru e Bhaktivedanta è difficile che noi sentiamo delle frasi da lui cioè dette da lui dove si definisse un'anima liberata però i sintomi erano proprio quelli e nei pochi momenti in cui insomma è stato proprio chiesto lui non so una frase famosa ha detto per quanto mi ricordi non c'è stato mai un momento in cui ho dimenticato Krishna in cui ero dimentico di Krishna che è proprio un sintomo chiaro insomma di una persona liberata cioè di una persona che ci sono tanti tipi di liberazione c'è il Nitya Siddha che è come dire è liberato e viene nel mondo per portare un messaggio da liberato il Siddha Siddha quello invece Sadana Siddha Sadaka Siddha invece colui che attraverso la pratica diventa liberato e il Kripa Siddha colui invece che per una grazia divina in qualche modo arriva alla liberazione da quello che noi capiamo di lui Prabhupada era una persona già liberata da sempre nella Prabhupada di Lambrita possiamo leggere dei passaggi molto significativi in questo senso il fatto che fosse nato in una famiglia Vaishnava di devoti praticanti praticanti in modo serio il fatto che abitasse proprio dall'altra parte della strada rispetto a un tempio di Govinda e andasse sempre ma sintomi ancora più il fatto che avesse un altare proprio da piccolo piccolo insomma tante cose che vi invito a scoprire ecco il mio inventamento proprio per darvi la curiosità Jagad Guru significa un maestro del mondo intero e questo lo riferisco proprio al suo messaggio universale cioè la sua capacità di parlare a culture molto molto diverse tra di loro a culture molto distanti tra di loro a risvegliare quei valori che sono universali a sentire che quando leggiamo qualcosa di suo quando ascoltiamo ma anche quando vediamo il suo esempio si sta muovendo in un modo diverso diciamo sta commentando dei testi antichi ma questo ha detta di studiosi in nessun passaggio come dire il significato del testo è stato oscurato da una comunicazione di propaganda o qualche come dire messaggio personale quindi vediamo proprio quella sua volontà e purezza di proporsi come messaggero di un messaggio universale e poi bhaktivedanta bhaktivedanta è proprio un suo titolo viene definito eh sì bhaktivedanta svami pravupada vai c'è una ravinda bhaktivedanta svami pravupada è proprio un suo titolo che vedanta vuol dire proprio conoscenza ultima fine ultimo conoscenza ultima e bhakti è proprio nella bhakti quindi quella sua capacità di andare fino al al senso ultimo anche della tradizione al messaggio ultimo della tradizione questa volontà di unire saggezza e pragmatismo illuminato diciamo questa volontà di unire i popoli invece che dividerli invece che entrare ma anche questa volontà di risvegliare la coscienza di una persona che sta seguendo una determinata tradizione di risvegliare il senso profondo di quella tradizione piuttosto che convertirlo ad un'altra tradizione proprio nel suo senso quello proprio di risvegliare il senso di quello che un praticante sta facendo nella propria tradizione è proprio quello che è il messaggio ultimo quello di vedere come dire il fine vuol dire proprio il fine ultimo non il bene immediato non solo il bene immediato ma non a lungo termine ma proprio il fine ultimo dell'esistenza di una persona e poi un altro un altro aspetto interessante è comprendere il suo ruolo da teologo diciamo che ogni maestro ha la sua ha le sue cioè non tutti i maestri sono come Scella Prabhupada ovviamente non dico meglio peggio non sto dicendo proprio nel senso che sono persone che portano proprio i loro talenti portano la loro personalità in quello che fanno e Scella Prabhupada si inserisce come nella tradizione millenaria Vaishnava si inserisce proprio come teologo cioè appunto abbiamo detto che c'è questa gloriosa tradizione Vaishnava che penso a Madhvacharya penso a tra i Goswami Jiva Goswami proprio definito tra i più grandi teologi della storia e Scella Prabhupada anche si inserisce anche lui in questa catena in queste personalità di spicco insomma dove hanno dato proprio degli apporti filosofici sostanziali alla tradizione dove hanno saputo proprio declinare non solo difendere delle conoscenze ma anche declinare in un modo nuovo mai fatto prima nella tradizione cioè questa capacità di speculare diciamo questa capacità di usare appieno l'intelligenza ma rimanendo ancorati al messaggio dell'isciastra che è proprio la capacità del filosofo e del teologo è proprio la sua la sua anche come teologo la sua critica la sua posizione ferma anche rispetto alla scienza empirica non per sminuirla ma per darle il posto che dovrebbe avere specialmente in una e perché e perché 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 siamo in una in una società dove la tecnica ha assunto come dire il predominio epistemologico cioè il predominio della fonte di dove noi riceviamo la conoscenza la tecnica proprio in sé non sto parlando dello scienziato del laboratorio proprio quel tipo di mondo cioè noi pensiamo che arrivi da lì solo la conoscenza vera e diciamo che proprio Pada in tanti ambiti ha avuto toni anche molto forti rispetto a questo modo di di operare con tante angolature con tante angolature cioè dicendo uno che la persona cioè ricordare che la persona comunque è condizionata è soggetta all'errore è soggetta all'inganno è soggetta cioè la percezione sua è limitata quindi insomma anche la conoscenza che riesce a percepire da solo è comunque relativa è comunque temporanea diciamo utile ma comunque temporanea non assoluta quindi chi non è collegato al Signore nel senso più profondo del termine non solo come dire religioso del termine non solo religioso ma proprio più profondo del termine è difficile che attinga quella conoscenza quella scienza reale e quindi la sua beh anche la sua posizione forte contro la teoria dell'evoluzione è una posizione nuova nell'ambito era usata anche da Bhakti Siddhanta Sarasvati ma in particolare Bhakti Vedanta Swami proprio l'ha presa come suo un suo argomento forte e proprio il fatto che la vita provenga dalla vita era un suo elemento anche il suo desiderio di creare uno spazio uno spazio di confronto con il mondo scientifico che è il Bhakti Vedanta Institute come dire un confronto alla pari diciamo con il mondo scientifico cioè attraverso anche il loro linguaggio attraverso il loro linguaggio è qualcosa di innovativo nella tradizione perché prima diciamo che prima non era così impellente e così urgente dettare questo ambito prima la scienza la tecnica aveva un suo ambito ma molto relativo la scienza era uno strumento dell'uomo adesso insomma la tecnica sta diventando che noi stiamo diventando lo strumento della tecnica qua si può aprire una grande parentesi ma anche adesso però insomma Prabhupada è in grado di vedere questo tipo e stiamo parlando degli anni 60 pensate adesso ma è in grado di vedere questo tipo di filosofi più acuti l'avevano già visto agli inizi del novecento ma di vedere questo cambiamento di percezione cambiamento di percezione sottile ma cambiamento di percezione pian piano pensare alla scienza della tecnica come fonte di sapere fonte assoluto di sapere quindi anche appunto questa sintesi tra filosofia e religione è proprio una sua impronta quello che dicevamo prima lui diceva la religione senza filosofia è sentimentalismo e dove è un po' dove diciamo strati gli strati più superficiali di ogni tradizione hanno questo vivono la tradizione in questo modo come un sentimentalismo e quindi come dire diciamo portati dall'emotività portati cioè che insomma non riescono a controllare gli impulsi emotivi quindi da là è facile anche pensare alla religione come l'opio dei popoli cioè è facile è un attimo perché si vedono anche ci sono stati gli esempi in questo senso mentre la filosofia però diceva senza religione è una sterile speculazione mentale cioè solo pensare al mondo senza avere una fonte di meditazione una fonte meditativa che è Dio portava ad un certo livello porta vicoli ciechi a vicoli che cioè a lupe che non si possono sbrogliare perché o accede a un livello superiore oppure rimani lì ed è quello che vediamo nella nostra filosofia occidentale che riesce a indagare strati estremamente interessanti ma oltre a un certo punto non riesce ad andare perché manca quella parte che alcuni hanno avuto ma manca quella parte quindi riconoscerlo come caro a Krishna significa anche vedere nei suoi commenti nella sua storia nel suo esempio personale di come fosse estremamente maleabile nelle mani del Signore ma incrollabile nel dare una definizione di che cos'è il mondo e qual è la relazione che dovremmo avere con Lui un altro un altro un altro così un altro spunto di riflessione è imparare da Lui nel suo esempio come a vivere e come a morire è uno spazio questo è così ci ho pensato anche prima di portarlo perché è un argomento molto sensibile qui sta parlando e qua è vivo ovviamente sono scene da vivo però diciamo che tutti i predicatori ci dicono che che Dio ci ama no tutti tutte le tradizioni sentiamo questo Dio ci ama però dobbiamo vedere qualcuno che realmente è innamorato di Dio per poter cambiare veramente per credere veramente in questo in questa affermazione e proprio attraverso il suo esempio personale ci ha fatto vedere sia come vivere ma anche come morire ci ha fatto nei suoi scritti è molto chiara l'inevitabilità della morte cioè nello stato condizionato la morte è inevitabile è un tema ricorrente è un tema forte molto forte è un tema ripetuto ribadito approfondito approfondito però anche ci fa vedere che per l'anima per il devoto invece non è detto non è necessario arrivare veramente a una morte che porta a un'altra nascita ma ci si può liberare al momento della morte e lui l'ha fatto attraverso il suo esempio ovviamente sono come dire sono frasi che rimangono nell'aria fino a quando non le vedi frasi che specialmente nel nostro mondo rimangono nell'aria fino a quando non le vedi e quindi ha portato il suo esempio personale come ogni cosa che ha scritto che ha detto e anche nella sua parte finale ci ha fatto vedere come è andato a Vrindavana ha continuato diceva voglio morire cioè vuole lasciare il corpo come un guerriero pensava proprio ad Arjuna quindi ha continuato a svolgere il suo servizio devozionale che era quello della traduzione dei commenti infatti qui vedete io segno qua però insomma lì vedete lui che sta commentando con un proprio flebile filo di voce stava commentando ed è arrivato al decimo canto al tredicesimo capitolo dello Shima Bhagavata e poi non ce l'ha non ce l'ha più fatta ma proprio si è circondato da devoti che cantavano il santo nome del Signore insomma ha cercato di dare di far vedere insomma non aveva medicine che come dire attenuassero il dolore che comunque stava provando perché il corpo produce dolore su questo non c'è non c'è non c'è scampo insomma questo è un momento che potete apprezzarlo potete approfondirlo ad esempio nella Shila Prabhupada di Lamrita in tanti libri di suoi penso a Tamakrishna Maharaj in tanti libri di suoi discepoli che hanno vissuto insomma è una bellissima meditazione è una meditazione come dire non non banale ecco non banale sicuramente molto forte però è una bellissima meditazione e poi l'ultimo aspetto che volevo portarvi è proprio quello di imparare a servirlo nella separazione e però per dare il senso che ognuno di noi ha la stessa possibilità di avvicinarsi a Shila Prabhupada i suoi libri dicevo i suoi libri saranno proprio libri importanti per diecimila anni e non e non come dire facciamoci ingannare dai primi 50 anni di movimento vediamo anche Città Neapro nel 1500 diceva il mio santo nome del Signore si è accanto in ogni città e villaggio ed era un po' strano in quel momento non si conosceva praticamente niente fuori dall'India cioè per i villaggi per i paesani lì era molto strano invece lui vedeva lontano di 500 anni quindi insomma c'è tempo ma ognuno di noi ha questa possibilità di instaurare una connessione personale molto intima con Prabhupada è presente attraverso le sue istruzioni che continuano a guidare a trasformare il nostro cuore è presente attraverso i suoi devoti è presente attraverso le persone che lo amano riusciamo a riconoscere la sua presenza anche persone che hanno avuto adesso ancora abbiamo la fortuna di avere qualcuno che non dico che è stato con lui come se fosse un elemento di distinzione ma ha avuto proprio l'opportunità di vederlo e quindi ci può trasferire i suoi ricordi ma lui già nel 1967 aveva introdotto questo principio del servirlo in separazione perché quando lui ha aperto il primo centro a New York e ovviamente i primi devoti pensavano che quello fosse finita lì aveva aperto un buon centro e magari pensavano che ne so a ingrandire il centro come qualsiasi no arriva un maestro e ingrandisce il centro quando invece ha espresso il suo desiderio di andare a San Francisco di mandare i suoi discepoli a San Francisco e di andare lì sono rimasti proprio scioccati e lui nella sua lettera da San Francisco che scrive ai devoti di New York proprio introduce questo concetto di servire il maestro in separazione c'è Vapu la presenza fisica e Vani invece il maestro presente attraverso le sue istruzioni e anche lui stesso ha vissuto questo senso di servire il maestro in separazione con Baktisidante il suo maestro spirituale che ha visto poche volte nella sua vita e per concludere vi volevo condividere questo passaggio siamo alla fine vi ho letto prima un passaggio all'inizio della città della città e qui siamo proprio alla fine è finito tutto allora penso che sua divina grazia Baktisidante sarà svatti da cura stia sempre osservando le mie tevità e mi guida attraverso il suo cuore con le sue parole nello Shima Bhagavata mi ha detto tenebra marida l'ispirazione spirituale viene dall'interno del cuore dove Dio la persona suprema nella sua forma di Paramatma risiede sempre con tutti i suoi devoti e compagni non mi considero un grande studioso ma nutro piena fiducia nel servizio offerto al mio maestro spirituale e la sua divina grazia Shila Bhaktisidanta Sar Svati Takura se la mia opera di traduzione merita qualche credito esso è sicuramente dovuto a sua divina grazia anche se egli non è presente fisicamente ho fiducia che sia molto soddisfatto per questo lavoro di tradizione era sempre molto contento di vedere pubblicati molti libri per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna la nostra associazione l'associazione internazionale per la coscienza di Krishna Iskon è stata dunque fondata allo scopo di eseguire l'ordine di Shishitanya Mahaprabhu e di sua divina grazia Shilabakti Siddhanta Sar Svati Takura quindi diciamo che servirlo in separazione è quello che dovremmo imparare a fare servirlo in separazione è quello che dovremmo imparare a fare tenendo conto che nel piano spirituale tutto è molto vivo tutto è molto vivo non ci sono limiti non ci sono realmente separazioni dal nostro punto di vista c'è separazione ma come abbiamo appena letto Shilabakti non si sentiva mai separato non era una questione sentimentale è una realizzazione che ha più volte ribadito adesso ho preso un passaggio ma più volte ha ribadito e quindi mantenere viva non solo la sua memoria nel senso come persona come persona che è apparsa ha fatto qualcosa ha avuto proprio una parabola una scesa un'esperienza dei contatti ok delle delle realizzazioni proprio materiali ha costruito questo è andato qua è andato là ha costruito ha aperto cento e passa templi in giro per il mondo ha iniziato migliaia di discepoli ma anche come persona nittia Siddha cioè presente eternamente nel cuore del suo devoto insieme al Paramatma quindi abbiamo detto insomma per concludere che per avvicinarsi a Shilabakti per riscoprirlo il primo avvicinamento o il milionesimo avvicinamento ci sono così abbiamo delineato sette possibilità studiare i suoi insegnamenti leggere le sue lettere ascoltare le sue lezioni riconoscerlo cioè leggere il suo essere caro a Krishna e riconoscerlo nei suoi vari aspetti comprendere il suo ruolo da teologo cioè la sua innovazione filosofica imparare dal suo esempio sia a vivere che a morire cioè non è una lezione come dire triste ma imparare proprio dal suo esempio che una charia insegna attraverso l'esempio quindi non è solo un leggere ma è anche un osservare un vedere e un cercare di mettere in pratica e servire una separazione ma soprattutto darci la possibilità dare la possibilità a lui di trasformare giorno per giorno il nostro cuore bene grazie 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 grazie